Sia una tappa fondamentale poiché il Sud naturalmente ha tante diseguaglianze sociali in particolare da sanare e il dono e per me in questo senso la solidarietà diventa centrale in questi scambi tra il mercato e lo Stato, quindi l'importanza per me del volontariato, della cooperazione sociale, del terzo settore inteso in senso più ampio diventa fondamentale, quindi ben vengono queste iniziative per dare voce a questi soggetti soprattutto a livello territoriale.